buongiorno amici ben ritrovati un saluto a tutti ringrazio tutti gli iscritti siete veramente tanti e invito a chi non è iscritto di iscriversi perché porterà un contributo al canale e io porterò nuovi contenuti in questi video grazie ancora bene amici oggi abbiamo qui sul tavolo una scheda veramente rara anzi direi molto di più rarissima questa scheda è di marco che saluto ciao marco questa scheda ha un problema video ma prima di tutto vi faccio vedere e vi spiego un po questa scheda come è fatta questa scheda è di super mario bronze questa mitico gioco che tutti giocavano nelle vecchie saragiochi degli anni 80 infatti questa scheda è del 1984 del nintendo praticamente è la scheda originale di mario bronze in pratica queste schede venivano fatte per poter giocare in un solo cabinato con doppio monitor ma con due giochi separati e contemporaneamente giocarci quindi alla fine era già una innovazione in quegli anni perché si potevano mettere due giochi in una sola scheda anche per questo io direi che questa scheda è rara perché tutti la vogliono perché adesso si possono scaricare le pro inserirle dentro negli slot e poter giocare a qualsiasi gioco compatibile con questa scheda immaginiamo di tagliare in due la scheda immaginiamo di tagliare in due la scheda proprio in questo senso e notiamo che abbiamo tutte le rom da un lato e le altre rom dall'altro in pratica si possono inserire due tipi di giochi diversi e giocare su due monitor separatamente questa è veramente una bella scheda l'unica cosa che non mi è piaciuta è perché hanno inserito diciamo l'amplificatore audio all'interno del cabinato con una scheda dedicata e non l'hanno inserita all'interno della scheda notiamo che infatti questo nolleggiatore quando l'ha smontata dal cabinato per poterlo usare anche su altri cabinati con la modifica dell'attacco jam ha dovuto in qualche maniera fissare l'amplificatore per poter sentire anche l'audio io un consiglio che vi do prima di iniziare quando avete queste schede rarissime e magari non le conosciamo tanto bene vi conviene scaricare tutti i datasheet contenenti le istruzioni perché non dobbiamo assolutamente sbagliare perché se sbagliamo un filo possiamo anche creare un problema la scheda irreparabile quindi alla fine è meglio sempre controllare il datasheet con tutti i cablaggi e notare tutte le varie modifiche perché può essere utile anche in una seconda riparazione bene non vedo l'ora di collegarla adesso la colleghiamo insieme e andiamo a vedere un po questo difetto di questa scheda la scheda è qui pronta per essere testata così vediamo che difetto ha ma prima vi ricordo di controllare il cablaggio corrispondente allo schema elettrico perché se il cablaggio qui non è corrispondente rischiamo di fare altri danni quindi io l'ho già controllato sono sicuro che tutto perfetto vado subito ad accenderla e vediamo un po cosa succede perfetto amici la scheda si è accesa quindi abbiamo il gioco solo sfondo anzi ma direi una cosa che qui manca il colore sullo sfondo e poi manca anche il colore qui che non è blu ma è marrone anche nelle nuvole non è presente il bianco quindi è un bel problema di grafica poi vedo anche delle righe orizzontali e ogni tanto cade giù anche una riga verticale questo potrebbe essere il sincronismo adesso dobbiamo fare una bella cosa prima di tutto vado pulire la scheda la puliamo insieme vi faccio vedere come faccio poi la vado a riprovare e poi vediamo un po con lo schema elettrico se riusciamo a capire qualcosa da questo tipo di difetto andiamo subito a pulire i componenti e vediamo un po che cosa succede una volta rimosso le 6 e prom 27 64 e anche la cpu e la ppu possiamo notare insieme su questi pin quanto sono sporchi questa ombra che voi notate dalla videocamera è la parte sporca dei pin perché la polvere è depositata sopra quindi alla fine potrebbe anche creare dei disturbi la cosa peggiore che ho notato è proprio in questa posizione guardate qui questo pin quante verde qui sì che si tratta di ossido e di falso contatto secondo me questo pin non lavora come dovrebbe tra l'altro queste due e prom in posizione 8a e 8b sono due e prom che gestiscono alcune parti della grafica quindi sono veramente importanti un'altra cosa che voglio farvi notare è che se vi dimenticate la posizione non sapete più dove mettere la vostra e pro non è un problema perché comunque sull'etichetta è segnato per capire dove la dobbiamo mettere basta leggere l'etichetta qui c'è scritto 2a oppure 8a perché indica due posizioni ovviamente se stiamo lavorando nella parte qui alta quindi all'otto dobbiamo metterla in posizione 8a se invece stiamo lavorando nella parte quella bassa questa qui dobbiamo inserire la nostra e pro nella posizione a2 oppure 2a vabbè è la stessa cosa quindi questa parte qui a noi non ci interessa per il momento ma sappiamo che va messa nella parte 8a quindi questa cosa vi può essere anche utile da ricordare in caso che vi dimenticate come posizionare le pro un'altra cosa che ho notato è che sulla ppu guardate qui qui ho trovato un pin messo veramente male questi pin sono tutti placati in oro ma guardate come sporco potrebbe creare dei falsi contatti voglio anche ricordarvi che anche su questa ppu qua è segnalata la posizione 2f oppure 8f nel nostro caso stiamo lavorando nella parte alta è l'otto f benissimo adesso vado avanti a ripulire tutti i contatti tutti i pin e poi ci vediamo dopo per fare una nuova prova ripuliti i vari contatti il problema della grafica è rimasto tale è uguale quindi abbiamo migliorato un po la pulizia della scheda ma il problema è rimasto quindi che cosa abbiamo su questa scheda abbiamo la possibilità di mettere due giochi separati farli lavorare contemporaneamente su due monitor diversi quindi che cosa succede che se noi vogliamo regolare i colori per un gioco e i colori per l'altro gioco abbiamo una sezione dedicata qui vediamo insieme questo rettangolo verde che sarebbe la sezione dedicata per la regolazione dei colori nella posizione 2f quindi abbiamo tre potenziometri rosso verde blu dove ruotando si può regolare il colore per ogni tipo di potenziometro invece per il sincronismo qui non è possibile regolarlo perché il sincronismo è fisso nell'altra nell'altra posizione quindi nell'altra posizione nella 8f abbiamo la stessa identica cosa quindi abbiamo i tre colori rosso verde blu che con dei potenziometri si possono si può regolare il colore ma il sincronismo è fisso per gestire questi due diciamo due sezioni separate abbiamo quattro integrati due integrati lm324n che sono degli amplificatori operazionali e due integrati il tc4066bp che praticamente è un switch bidirezionale che vanno a gestire i tre colori facendo questo ragionamento io sono partito dalla sezione dell'8f quindi dove ho inserito la mia ppu eccola qui nella posizione 8f ho testato con il tester al pin 14 15 16 e 21 con il tester ho testato se c'è un alimentazione in uscita per capire se la ppu è funzionante e in effetti funziona benissimo le alimentazioni sono corrette poi sono andato nella sezione della regolazione dei colori e ho testato ogni uscita quindi il pin 9 in posizione 1p dell'lm324n poi sempre dallo stesso integrato posizione 1p ho testato il pin 10 e poi guardate qui nella posizione 3p perché è l'altro integrato perché come dicevo prima ce ne sono due dlm quindi su questa posizione qua 3p al pin 12 ho testato il colore blu di questa sezione e anche qui è tutto a posto quindi che cosa ho scoperto facendo una ricerca che questa scheda con questo funzionamento è compatibile soltanto con il monitor originale della scheda della nintendo quindi queste schede sono solo compatibili con i monitor originali nel mio caso che voglio collegare questa scheda a un monitor standard giamma non è possibile perché è fatto apposta questo giochetto per farvi vedere i colori fatti male quindi alla fine quello che noi vediamo è normale per questa scheda ma non è rotta è fatta apposta così per risolvere questo problema esiste un kit venduto in rete dove aggiungendo una piccola scheda va a modificare i colori e praticamente ce lo fa vedere bene in un monitor giamma normale l'unica cosa che il sincronismo non è regolabile quindi il sincronismo si può soltanto regolare dal monitor antarex o quello che avete del vostro cabinato ma non si può regolare né dal convertitore che adesso vi faccio vedere e neanche da questa scheda è stato un bel è un bello studio mi sono divertito veramente ragazzi qua c'è tanto da imparare su queste schede molto belle e questa scheda secondo me è una scheda da collezionare non fatevela scappare se la trovate in giro se la trovate vedete che ha un questo difetto di colori blu è normale perché vi serve un convertitore video adesso andiamo insieme a vedere lo schema del convertitore video ed ecco qui amici un circuito che vi salverà se avete lo stesso problema come il mio con questo circuito se siete in grado di realizzarlo riuscite a crearvi una scheda che converte l'uscita della vostra nintendo al al monitor antarex o al monitor che avete nel vostro cabinato quindi un monitor standard un monitor normalissimo del vostro cabinato andiamo a vedere che qui in entrata abbiamo i tre colori blu verde e rosso e abbiamo anche un filo che è il sincronismo che però entra e poi scorre scorre ed esce direttamente al monitor perché come vi dicevo prima la regolazione è soltanto fattibile dal vostro monitor non è fattibile né da questa scheda e né dalla scheda del gioco quindi l'unico modo è regolarla direttamente dal monitor abbiamo i tre colori che si possono aggiustare con i tre potenziometri abbiamo l'integrato TL074CN che fa tutto lui praticamente con dei condensatori di filtro e via così vi regola i colori che vanno al monitor ho aggiunto anche qui nello schema come vediamo insieme un amplificatore praticamente in stereo che servirà per amplificare il suono che esce dalla vostra nintendo al vostro cabinato ma adesso andiamo a provare questa scheda la collego alla scheda nintendo la proviamo sul monitor e andiamo a fare le conclusioni per capire un po' se questo circuito funziona e se tutti i problemi si sono risolti ci siamo quasi amici al posto dell'amplificatore audio che tanto non ci serve più ho inserito il convertitore video e audio ho creato un supporto con la stampante 3d per poterla posizionare e fissare alla scheda in modo da non creare un cortocircuito e la scheda è pronta per essere provata ma prima vi ricordo che se avete domande e volete contattarmi trovate il mio indirizzo email qui sotto in descrizione per qualsiasi cosa 3 2 1 accendo il mio crocchio vediamo un po' come va si sta accendendo adesso inserisco anche il credito vediamo un po' perfetto ragazzi i colori sono a posto credito inserito l'audio si sente faccio partire il gioco ragazzi se avete domande e volete contattarmi fatelo pure e vi raccomando scheda riparata like meritato un saluto a tutti amici ci vediamo presto nel prossimo video ciao 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 ciao